Grazie a tutti. La collaborazione tra le forze di polizia sul territorio. Il neoquestore di Bari, Antonio De Jeusu, incontra la stampa e traccia le linee guida del suo nuovo incarico. Lo ha intervistato per noi Cristina Ferrigni. Ha dichiarato poco fa che i reati predatori, soprattutto scippi e furti in appartamento, sono quei reati che maggiormente condizionano la percezione della sicurezza da parte dei cittadini, quindi bisogna partire da questo. Bisogna partire da questo senza assolutamente incrinare l'attività investigativa sulla criminalità organizzata che è ben presente e che sicuramente condiziona anche il fenomeno di criminalità predatoria. Però sulla percezione di insicurezza delle persone, il fatto dell'altro giorno la sparatoria in pieno centro, il furto in appartamento, come furti anche delle auto, scendere la mattina e non trovare la macchina è un danno, oltre che una violenza morale, è un danno economico. Voglio dire, tornare a casa e non trovare la casa scfaleggiata è una violenza morale indicibile, oltre che un danno economico. Lei arriva da Salerno e ha dichiarato anche che la criminalità organizzata barese è strutturata un po' come quella napoletana, cioè ci sono tanti gruppi criminali che agiscono sul territorio per la conquista del territorio, proprio delle zone. Sì, di questo ne sono convinto. Quella napoletana come quella barese sicuramente non hanno il profilo dell'andrangheta e della mafia, dove c'è una cupola c'è un'oligarchia del crimine che decide strategie. Napoli e Bari invece non ha una cupola, non c'è un'oligarchia, anzi c'è una frammentazione che determina in alcuni casi lotte per il controllo del territorio, che come dicevo controllare un'area, controllare una zona. Significa reddito, significa gestire i traffici illeciti, soprattutto lo spaccio di sostanza sopefacente. Passiamo alla politica, ci sono con tutte le mie fragilità, ci sono. Così Guglielmo Minervini, assessore PD della Giunta Vendola, ufficializza con un post su Facebook la sua candidatura alle primarie del centro-sinistra per la regione. Non tutto ha funzionato in questi anni, scrive Minervini, ma c'è solo un modo per chiudere questa stagione, rilanciando Sognare Ancora. Non sarà un cammino facile, sarà una strada tutta in salita, conclude Minervini, che comincia da qui, da ciascuno di voi. Minervini dovrà vedersela per ora con Dario Stefano e Michele Emiliano, si vota domenica 30 novembre. Sessione comunitaria in Consiglio regionale, oggi alla presenza degli europarlamentari e non mancano le sorprese al servizio di Silvia Dipinto. La seduta comincia con i toni accesi, anzi accesissimi. L'europarlamentare della lista Tsipras, Eleonora Forenza, decide di non alzarsi quando suona l'inno nazionale. Dai banchi dell'opposizione si levano rumorose le proteste. La Forenza omaggia solo la bandiera della pace. E il presidente della SISO, Enofri in trona, chiosa infastidito il mio dovere di ospitalità, finisce qui. Fuori e dentro l'aula del Consiglio regionale ci sono i rappresentanti del popolo palestinese. Mentre si riunisce la sessione comunitaria 2014 del Consiglio, una delegazione chiede alla regione di prendere una posizione chiara e netta, come spiega con suo gesto eclatante Eleonora Forenza. Oltre al cessato il fuoco io credo bisogna porre con forza la questione del boccottaggio di Israele, la questione che riguarda anche la regione Puglia dei rapporti commerciali con lo Stato di Israele. E come sta accadendo in alcuni paesi dell'America Latina, io credo che se non cessa immediatamente questa aggressione si debba chiedere l'espulsione degli ambasciatori. Il Consiglio oggi discute e approva la risoluzione con gli indirizzi relativi alla partecipazione della regione Puglia all'attuazione delle politiche del diritto dell'Unione Europea, infrastrutture e agricoltura, la priorità di Raffaele Fitto che accoglie il grido di allarme degli olivicoltori pugliesi. Io penso che a partire da oggi, occasione di discussione generale, si dovrà poi procedere settorialmente a rilanciare l'azione e le esigenze e le dutele dei territori. Nel caso dell'agricoltura penso che sia quantomai fondamentale stabilire per una regione come la Puglia questa come una delle priorità. Quindi da parte mia c'è la piena disponibilità a svolgere un'azione mirata in questa direzione. Sanità continua la polemica di Forza Italia sugli sprechi della ASL di Bari. 24 milioni di euro secondo il partito tra prestazioni strapagate, sperperi negli acquisti, nomine in assenza di atti aziendali. Il governatore Vendola venga in Consiglio regionale a rendere conto della gestione della ASL Bari, chiedono i consiglieri dopo l'interrogazione di Gianmarco Surico sulle violazioni rilevate dai servizi ispettivi del Ministero dell'Economia. Secondo quanto denunciato da Surico nella relazione presentata alla Corte dei Conti risulterebbero corresponsioni illegittime a personale ASL e legittime applicazioni di accordi contrattuali per un danno erariale che ammonterebbe come minimo a 24 milioni di euro. I consiglieri insistono quindi sulla necessità che la Giunta fornisca coppia della relazione, altrimenti minacciano, andremo a prendercela. Si sono incatenati nell'Ateneo di Bari e seduti a cavalcioni dalle finestre dell'Università per protestare contro i prossimi licenziamenti. Sono i 21 lavoratori del settore amministrativo dell'Ateneo. Abbiamo vinto un concorso per essere assunti a tempo indeterminato, ma il 31 luglio l'Università di Bari ci licenzierà tutti, hanno spiegato. Siamo precari da 15 anni e nel 2012 avremmo dovuto essere stabilizzati. Invece hanno continuato, ci hanno solo prorogato i contratti di mese in mese e ora saremo tutti licenziati perché ci sono assunzioni più importanti da fare. La Puglia conferma il numero di bandiere blu per il mare purito, ma purtroppo anche le criticità in tema di depurazione. Fuori legge, 14 campionamenti su 31 tra foci di fiumi, torrenti e scarichi. Sono i numeri dell'indagine realizzata da Lega Ambiente con Goletta Verde. Sentiamo l'intervista al Presidente regionale, Francesco Tarantini. Le criticità riguardano soprattutto quei tratti di costa in cui sfociano foci di fiumi, di torrenti, scarichi illegali. Questi punti sono quelli che noi poniamo l'attenzione a livello locale dei sindaci affinché si risolvano queste criticità perché influiscono naturalmente in negativo sulla biodiversità del mare. Per quanto riguarda la situazione dei depuratori, una situazione rispetto a quella dell'anno scorso in miglioramento. Ci sono ancora delle criticità, delle situazioni irrisolte, ci sono ancora 12 depuratori che scaricano nel sottosuolo. Su 39 ci sono delle criticità stando ai controlli dell'ARPA. Si è aperta una nuova procedura di infrazione per violazione della direttiva europea sulla depurazione che coinvolge ben 37 agglomerati, ossia 2 milioni e mezzo di abitanti equivalenti. Sul 41% di questi depuratori ci sono anche delle criticità legate agli scarichi anomali che arrivano ai depuratori. Però a fronte di tutto ciò si stanno avviando gli interventi di potenziamento e di adeguamento dei depuratori. Sono ben 47 ed è ovvio che sino a quando le procedure non saranno chiuse, non saranno avviati i lavori, penso che risultati in positivo li vedremo maggiormente l'anno prossimo. Ancora un maxi tamponamento sulla statale 16 in direzione nord e un incidente sulla careggiata sud. Mentre sono in corso i lavori per ripristinare il guardrail centrale, abbattuto ieri dal fuoristrada che ha invaso la corsia opposta, torna a paralizzarsi oggi la statale 16 tra Bari e Mola per altri due incidenti. La polizia stradale consiglia quindi agli automobilisti di utilizzare viabilità alternative come la complanare. Confezionava in casa dosi di marijuana ed ascisce per poi spacciare sulla piazza di Carbonara. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di detenzione e i fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne del posto. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato oltre 70 grammi di droga e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Voltiamo pagina presentato ieri sera al Circolo della Vela in collaborazione con il Consolato di Svizzera Bari perché gli svizzeri sono più intelligenti. Il saggio storico-umoristico scritto a quattro mani da Jacopo Fo e Rosaria Guerra. Hanno partecipato all'incontro il professor Ugo Patroni-Griffi, Matteo Spiller ed Enrico Bernasconi. Sentiamo l'intervista all'autrice, la dottoressa e giornalista Rosaria Guerra. Perché gli svizzeri sono più intelligenti? Un saggio a quattro mani scritto da Jacopo Fo e Rosaria Guerra. Un saggio che tratta di argomenti seri come la politica, la società, però con umorismo. Sì, noi siamo partiti da un assunto scrivendo questo libro e il titolo è ovviamente provocatorio. Sosteniamo che gli svizzeri sono più intelligenti per vari motivi. Innanzitutto perché non combattono più guerre da 500 anni. E questo ha consentito loro di tenersi fuori dai conflitti mondiali e di evitare il grande dispendio di vite umane e di ricchezze, di risorse economiche che invece gli italiani e anche altri popoli hanno compiuto in tutti questi secoli. Perché leggere questo saggio? Perché è interessante, si scoprono molte cose sulla storia della Svizzera che spesso si è interessata con quella dell'Italia. Gli stessi svizzeri ci hanno detto di aver scoperto elementi della storia del loro paese che non conoscevano. Perché comunque è divertente, è accurato e offre degli spunti di riflessione. E in questo momento storico in cui l'Italia a volte arranca forse confrontarsi con i vicini che sono molto vicini geograficamente ma così diversi da noi culturalmente può essere sicuramente utile. Secondo voi gli autori degli Svizzeri si sono dimostrati un popolo particolarmente abile? Particolarmente abile nello scegliere la pace e nel mantenerla e quindi nel creare un paese prospero, stabile politicamente, socialmente. Questo ha portato ovviamente ad un equilibrio al rispetto di quelle che sono i diritti fondamentali e lo sviluppo delle libertà individuali. Ed ora un'informazione di servizio alla ripartizione politica educativa comunica che il termine per l'iscrizione al servizio trasporto scolastico è fissata per il 31 agosto 2014. L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online sul sito istituzionale del Comune di Bari www.comune.bari.it Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 21 e 27 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net, info, chiocciola, segnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito più tardi con informazioni di Telebari. www.telebari.it.it